Grazie di essere qui, innanzitutto benvenuti, il luogo è quello che è perché dall'altra parte è in corso il Comitato nazionale, nonostante questo e nonostante tante altre cose in questa competizione elettorale per l'elezione del Presidente della Regione ci siamo, ovviamente tra le tante altre cose come abbiamo avuto modo di sollecitare l'attenzione nel corso dei giorni passati, sapete benissimo, c'è stato il veto del PD di Zingaretti, c'è stata la vicenda relativa all'alleanza tecnica con Storace, c'è stata la vicenda dell'ufficio elettorale di Roma, quindi nonostante tutto questo noi siamo comunque riusciti a offrire la possibilità ai cittadini del Lazio di esprimere un loro voto per chi? Un loro voto per chi ha dato corpo nel corso della passata legislatura, non ad immaginazioni, non a pensieri, non a propaganda, ma ha dato corpo con i fatti alle proprie idee. Per questo io voglio iniziare questa conferenza stampa con una frase che è la frase di Gandhi, nella quale si dice sono le azioni che contano, i nostri pensieri per quanto buoni possano essere sono perle false, fintanto che non vengono trasformati in azioni, sì il cambiamento che vuoi vedere nel mondo e in particolare quest'ultima locuzione possiamo dire che è uno dei motti dei radicali, sì il cambiamento che vuoi vedere nel mondo e noi questo cambiamento lo abbiamo fatto nel momento in cui in Consiglio regionale ci siamo trovati di fronte a delle vicende che dovevano essere cambiate e le abbiamo cambiate semplicemente con il racconto della verità, con il racconto della verità che ha scandalizzato dapprima la stampa e poi l'opinione pubblica e poi le procure e poi anche il governo Monti che è intervenuto appunto sulle vicende della regione. Senza polemiche ma semplicemente per dar conto di chi fa propaganda e immagina e di chi invece i fatti li fa c'è da sottolineare e voglio sottolinearla all'inizio questa cosa con riferimento a chi immagina la trasparenza, ovviamente riferimento al candidato presidente Zingaretti, non faccio riferimento al candidato presidente Storace perché Storace non mette nei suoi slogan quello della trasparenza, non lo ha neanche preteso e invece Zingaretti sì, sta disboscando l'Amazzonia con i suoi manifesti elettorali 6x3 dicendo immagina la trasparenza, allora la trasparenza si fa e Zingaretti ha avuto la possibilità di farla da presidente della provincia, da presidente della provincia chiedo scusa, Zingaretti ha governato la provincia e non vedo perché una persona che ha già governato un ente adesso debba cambiare registro rispetto a quel che ha fatto in passato, non capisco la differenza che ci debba essere tra il presidente della provincia e il presidente della regione, allora il presidente della provincia tanto per parlare di trasparenza non rende pubbliche le delibere di giunta e le delibere del consiglio della provincia, voi potete fare semplicemente un accesso al portale della provincia e verificherete che sono pubblicate e scaricabili le delibere di giunta e del consiglio assunte negli ultimi 15 giorni, dopo questi 15 giorni le delibere non sono più accessibili, rimangono solamente i titoli delle delibere, esattamente quei titoli che per esempio venivano inoltrati rispetto alle delibere dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale del Lazio, ma per un cittadino per poter accedere a queste delibere è necessario fare una istanza scritta, appunto dando anche per un accesso informale, occorre indicare le proprie generalità e gli estremi di un documento di riconoscimento valido, occorre indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentono l'individuazione e occorre motivare la richiesta specificando dove occorra e dove occorra comprovando l'interesse connesso all'oggetto della richiesta che deve essere diretto, concreto, attuale e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, cioè la trasparenza per il Presidente della provincia Zingaretti era esattamente quella della 241 del 90, quindi una legge vecchia di 13 anni fa, dove il cittadino per poter conoscere qualche cosa deve dimostrare di avere un interesse concreto e giuridicamente tutelato, cioè un interesse proprio, un interesse privato che è esattamente il contrario di quello che noi postuliamo rispetto alla trasparenza radicale, e cioè l'interesse pubblico. Tutti i cittadini debbono, senza dover andare a declinare un proprio interesse concreto e privato, debbono poter controllare l'attività dell'amministrazione. Questo è quello che Zingaretti ha fatto da Presidente. Non capiamo perché oggi si debba dare fiducia ad una Presidente che invece dice solo di immaginare. Da questo punto di vista c'è una onestà intellettuale di Zingaretti perché quando dice immagina la trasparenza effettivamente sta dicendo il vero, cioè voi cittadini immaginate la trasparenza perché io non la farò sostanzialmente. Questo è il messaggio che mi sento di leggere rispetto a questo. Invece noi la facciamo la trasparenza. La facciamo, l'abbiamo sempre fatta e in nome di questa trasparenza oggi la notizia è questa. Abbiamo ieri restituito al Consiglio regionale dei fondi del gruppo che voi potete apprezzare dalla distinta del bonifico e questi 360 mila euro fanno riferimento al saldo del conto corrente bancario del gruppo del Consiglio regionale del Lazio dei radicali che era pari a 402 mila euro e 25 centesimi. Abbiamo trattenuto come abbiamo comunicato agli uffici del Consiglio regionale del Lazio 32 mila euro per gli impegni di spesa già in essere, tra cui ci sono le prestazioni professionali, le collaborazioni, le retribuzioni fino alla fine di febbraio, nonché il trattamento di fine rapporto delle persone impiegate e il pagamento delle imposte che va a scadenza giugno 2013, novembre 2013 di 2013 e giugno 2014. Quindi abbiamo dovuto trattenere queste somme per pagare le varie imposte, tasse e i vari monumenti ai collaboratori. Abbiamo trattenuto anche 10 mila euro di accantonamento prudenziale per eventuali spese non previste da qui fino alla fine della legislatura con l'avviso che abbiamo dato agli uffici del Consiglio regionale che evidentemente qualsiasi somma avanzerà rispetto poi a queste spese preventivate all'accantonamento prudenziale, quando il gruppo del Consiglio regionale sarà definitivamente sciolto verranno restituite. Perché dico definitivamente sciolto? Non perché noi non ci saremo, anzi noi speriamo che i cittadini liberi ci riconoscano e ci diano il loro voto, ma perché comunque da un gruppo consigliare all'altro, a quello della successiva legislatura, lo dice la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, non c'è successione, cioè si tratta di due entità giuridiche distinte, finisce una, inizia un'altra. Questo dice la Corte di Cassazione rispetto alla vicenda della configurazione giuridica dei gruppi parlamentari e dei gruppi consigliari della Regione. Se così è quindi nessun gruppo dovrebbe trattenere alcuna somma. Però qui c'è una vicenda che intendo spiegarvi. La legge in base alla quale sono stati erogati questi fondi ai gruppi consigliari, che è la legge numero 6 del 1973, esattamente quei fondi di cui si sarebbe appropriato e di cui è accusato di essersi appropriato Fiorito, Maruccio e che hanno destato tanto scandalo, nulla dice in ordine alla restituzione di questi soldi a fine legislatura. Questo ufficio di presidenza però, questo ufficio di presidenza con tutto quello che è accaduto nel Lazio, qualche giorno fa, o meglio gli uffici, la segreteria generale, qualche giorno fa e precisamente l'8 gennaio del 2013, ha scritto di restituire i fondi non utilizzati, cosa che noi abbiamo fatto, che per inciso avremmo fatto anche ove non ci fosse stata questa lettera, poiché questa lettera è una lettera dove si chiedono indietro i soldi e voi ce l'avete pubblicata anche nel dossier che poi vi verrà restituito, è una lettera che chiede la restituzione dei soldi però senza alcun supporto giuridico, proprio perché la normativa in questione non prevede la restituzione dei soldi. Noi siamo stati ben felici ovviamente di dare spontaneo adempimento a questa richiesta, cosa che avremmo fatto anche ove questa richiesta non ci fosse stata, però questa lettera pone adesso dei problemi, pone dei problemi per i gruppi, gli altri uscenti e pone dei problemi anche per i gruppi delle passate legislature, perché se nelle passate legislature, e io lo dico molto chiaramente, la passata legislatura è finita tre anni fa, prescrizioni penali non ne sono maturate, quindi anzi cito e spero che nelle agenzie venga riportato di modo che vista l'obbligatorietà dell'azione penale, cito il nome del dottor Pignatone, capo della procura di Roma, affinché verifichi, apprendendo di questa conferenza stampa e in virtù del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, cosa ne è stato dei fondi, dei gruppi della legislatura Marrazzo, se questi soldi sono stati restituiti, probabilmente erano in quantità sicuramente inferiore, ma anche se fossero solo 100 Euro, noi vorremmo sapere se questi soldi sono stati restituiti o se questi soldi sono stati trattenuti dai gruppi consigliari della passata legislatura, perché viene da sé, qui si sta giocando sul profilo del peculato dell'appropriazione in debita e dovremmo pur capirci qualcosa, perché se questi soldi dovevano essere restituiti allora è in essere da parte anche di chi ne è accusato un peculato. Se questi fondi non dovevano essere restituiti perché rimangono nella proprietà e nella disponibilità dei gruppi consigliari, allora c'è da dire che evidentemente anche la costruzione in termini di peculato non appare essere la più corretta. Ma c'è un problema che noi vogliamo sollevare anche in riferimento ai gruppi di questa legislatura. Abbiamo provocato attraverso la nostra iniziativa ed in assenza di una disciplina vincolante perché il Consiglio regionale non ha mai voluto approvare la nostra proposta di legge sull'anagrafe pubblica dei nominati e degli eletti, quindi in assenza di una disciplina abbiamo però provocato per un certo tempo una, possiamo dire, un po' pelosa pubblicità dei fondi dei gruppi consigliari. Alcuni di questi gruppi consigliari incalzati dagli eventi si sono sentiti costretti a rendere pubblici i loro bilanci con modalità più o meno congrue e questo è accaduto fino a quando è scoppiato poi lo scandalo, parliamo di settembre-ottobre dell'anno scorso. Ma da settembre-ottobre dell'anno scorso altre cose sono successe e noi abbiamo trovato il dossier, i soldi che avevamo in cassa, i soldi che abbiamo restituito, 360 mila Euro che sono adesso nelle casse del Consiglio regionale e la speranza è che vengano utilizzate per il meglio e che non siano sottratte come tante altre risorse, ma qui c'è un invito a tutti quanti gli altri gruppi e cioè quanti soldi gli altri gruppi che oggi si presentano davanti agli elettori promettendo, immaginando, dicendo, propagandando, facendo, gli altri gruppi diano appunto il senso alla frase di Gandhi perché altrimenti sono tutte per le false quelle che sentiamo in giro con grande dispiego di risorse e di mezzi. Questi soldi non possono essere usati per la campagna elettorale. Noi rivolgiamo quindi un invito pressante a tutti gli altri gruppi affinché rendano pubblici i loro saldi dei conti correnti, affinché dicano quanti soldi sono stati restituiti e affinché dicano anche un'altra cosa. Noi lo trovate sempre nel dossier, abbiamo reso pubbliche anche le spese che sono state effettuate praticamente da ottobre del 2013, quindi da quando c'era l'altro bilancio, da ottobre 2012, chiedo scusa, a gennaio 2013. Ci sono tutte le spese, l'elenco di tutte le spese che voi potete riscontrare e quindi controllare e far controllare ai cittadini. Noi vorremmo sapere anche gli altri gruppi quanto hanno speso in questo periodo, non vorremmo che i conti correnti degli altri gruppi siano stati saccheggiati negli ultimi mesi della legislatura per poi fare campagna elettorale perché questo non è possibile. Qui c'è una sfida, un invito ai gruppi politici che sono poi quelli che vanno in giro per le strade, a proposito si era detto non manifesti abusivi, andate in giro per Roma, vedete i manifesti abusivi sui muri, non solo sulle plancie, anche quelli sono abusivi, ma sui muri della città dei candidati rinnovati del PD di Zingaretti, così come quelli di Storace, così come quelli di tutti i fratelli d'Italia eccetera eccetera. Andate a verificare come distruggono i beni della nostra città. Detto questo è una sfida a voi giornalisti, affinché andiate a controllare come deve fare una stampa libera che sia il cane da guardia del potere, andate a controllare voi giornalisti, fate un giornalismo di inchiesta per verificare cosa c'è nei fondi, nei conti correnti degli altri gruppi, cosa è rimasto, come sono stati spesi questi soldi, quanti di questi 14 milioni di euro sono ritornati in base a questa lettera della Segreteria Generale del Consiglio regionale del Lazio nelle casse pubbliche del Consiglio regionale del Lazio, essendo questi soldi pubblici. Grazie, la parola a Rocco. Grazie Giuseppe, ma io non aggiungo altre parole alla presentazione di questa iniziativa di oggi che viene nel momento in cui la nostra lista è stata riammessa alle elezioni regionali, spero che ne venga dato conto anche nei sondaggi che vengano rifatti, perché poi rimane nella memoria dei cittadini quanta predisposizione al voto c'è rispetto alle liste che sono state presentate negli scorsi giorni ed è esclusa la lista Amnistia, Giustizia e Libertà promossa dai radicali e dai consiglieri uscenti del gruppo Lista Bonino Pannella alla Regione Lazio, quindi questo è il primo auspicio. Però devo dire solo due cose a margine delle cose illustrate da Giuseppe Rosso di Vita e sono queste, sono proprio relative al rinnovamento tanto sbandierato, ma da una parte e dall'altra, in particolare il rinnovamento c'è stato opposto dal candidato presidente Zingaretti rispetto alle liste che dovevano essere fatte dalla sua coalizione, noi abbiamo avuto due incontri con Zingaretti, uno dei quali abbiamo anche partecipato e questi incontri avevano avuto una buona, almeno il primo sicuramente, un buon esito nel senso che condividevamo la sua volontà di trasparenza, il suo programma che era molto simile a quello della candidata da Emma Bonino nel 2010 e tuttavia questa parola che bisogna poi non solo raccontarla ma trasformarla in fatti, questa parola è rimasta tale, perché? Perché la trasparenza non c'è stata nell'unico momento in cui si è bloccato quel dialogo. In realtà il presidente Zingaretti, parlando di trasparenza, non ci fa capire perché i consiglieri del PD uscenti non siano stati in blocco ricandidati, neanche uno, ce ne sarà uno che è meritevole della fiducia degli elettori del PD, neanche uno è stato ricandidato e non che questo criterio sia un criterio che vale per tutti, nel senso che nella regione Lombardia, nonostante l'afferpenati e nonostante altre questioni che stanno coinvolgendo anche il consiglio regionale della Lombardia, eppure lì il PD ha ricandidato i consiglieri uscenti. Questo è il primo dato. C'è trasparenza in questa decisione? Perché non viene ricandidato nessun consigliere del PD, a questo punto addirittura paradossalmente a loro, soprattutto a quelli che poi alla fine non sono neanche stati ricandidati alla Camera, perché questo è il paradosso ulteriore, va almeno la mia personale solidarietà, perché non si capisce perché non vengono ricandidati. Ma quello, e questo è il secondo dato rispetto alla trasparenza, che non c'è. Il paradosso ulteriore è che, a differenza del veto che venne posto nel 2008 a Pannella, Delia e Viale, che non potevano essere candidati nelle liste del PD allora, da Veltroni, e lì possiamo fare tutti i ragionamenti del caso, ma questa volta si è fatto un passo ulteriore. Zingaretti non è che non abbia voluto i consiglieri uscenti radicali nelle sue liste. Il presidente candidato Zingaretti, in nome della trasparenza, non ha voluto che i consiglieri uscenti Rosso di Vita e Berardo fossero nelle liste dei radicali. Nella lista Amnistia, Giustizia e Libertà, Zingaretti ci ha detto che non potete mettere i consiglieri uscenti. Tutte le questioni che oggi abbiamo presentato e che sono il proseguimento di quella trasparenza nei fatti che abbiamo applicato a noi e al nostro gruppo in Regione, tutta quella trasparenza doveva essere cancellata, non poteva essere rivendicata da noi, consiglieri uscenti, non importa chi siamo noi, ma rivendicata dai radicali, da quel gruppo attraverso i suoi consiglieri. Queste sono, secondo me, nella ricaduta politica e delle scelte che sono state fatte all'inizio di questa volontà di trasparenza, quelle che denunciano di fatto l'incapacità di trasformare in fatti e in politica e in riconoscimento nelle persone che diciamo hanno per primi messo in pratica questa parola magica che adesso viene sbandierata e che hanno consentito poi alla fine di disvelare non solo quello che accadeva nel Consiglio regionale del Lazio, nella Regione Lazio, eccetera, ma quello che avveniva nella partitocrazia generale di tutte le regioni, appunto, negli scorsi mesi e che i cittadini hanno potuto conoscere. Questo mi sembra essere un primo passo che abbiamo fatto in questo inizio di campagna elettorale, questo è solo il primo, ce ne saranno degli altri e quindi speriamo che si possa dare notizia e si possa far conoscere a questo punto il simbolo e la lista promossa dai radicali amnistia, giustizia e libertà. Grazie. Serve il microfono di Radio Radicale? Ah, ok. Buongiorno, Luca Laviola dell'Ansa. Volevo essere sicuro di aver capito bene, è stata una lettera di Secretaria Generale del Consiglio regionale. Sì, la trovate dentro il fascicolo che è in distribuzione, è una lettera datata 8 gennaio 2013, a firma del responsabile della funzione Mario Stracuzzi, Segreteria Generale, Funzione Direzionale di Staffa, Trattamento Consigliere, Ex Consiglieri, Gruppi Consigliari, eccetera, eccetera. Lei ha spiegato che non c'è, diciamo, nella legge del 1973, nulla è previsto in ordine alla restituzione di questi fondi. Però c'è una giurisprudenza della Cassazione? No, c'è una giurisprudenza della Cassazione che dice che i gruppi parlamentari, ma la questione è analoga per i gruppi consigliari, cessano di esistere alla fine della legislatura. Il gruppo consigliare che si costituisce nella legislatura successiva, quantunque sia espressione dello stesso partito politico, per esempio, è una entità giuridica, ha una soggettività ed è un soggetto giuridico nuovo che non ha nulla a che vedere con il passato. Se tanto mi dà tanto, allora c'è da andare a verificare, appunto, e i termini non sono prescritti, che cosa è successo dei fondi, non erano probabilmente in questa entità, dei gruppi consigliari, tutti, sinistra, PD, centrodestra, Udc, l'Udc rimane sempre molto nascolsi in tutte queste vicende, fateci caso, applicano un principio che applicano in altre situazioni, quando c'è la tempesta è meglio nascondersi e dei fondi, per esempio, dell'Udc non si è parlato con la stessa attenzione rispetto ai fondi degli altri gruppi, comunque, indipendentemente da questo, essendoci una cesura, probabilmente dovevano essere restituiti anche in assenza di una disposizione legislativa, perché altrimenti se quei fondi non dovevano essere restituiti e rimangono nella disponibilità, non si sa di chi, poi, di chi, di un capogruppo che non è più un capogruppo, perché magari non è stato neanche rieletto, allora se è così, forse c'è pure da riflettere sull'imputazione sollevata su Fiorito e Maruccio, perché le norme che ne disciplinano l'uso di questi soldi pubblici valgono fin tanto che è in essere la consigliatura e poi che succede? Ora, bene a nostro avviso, bene ha fatto la segreteria generale a chiedere indietro questi fondi, vogliamo sapere se la segreteria generale sotto la presidenza del Consiglio, che all'epoca era di Bruno Astorre, se non sbaglio, presidente del Consiglio della passata legislatura, nella fase finale era Bruno Astorre, Bruno Astorre è il consigliere che in questa legislatura era vicepresidente del Consiglio, nonché membro quindi dell'ufficio di presidenza, uno di quelli che ha votato sempre all'unanimità per l'aumento dei fondi dei gruppi e che adesso si trova in una capolistura al Senato, se non sbaglio, del Partito Democratico ovviamente, tanto per parlare di rinnovamento. Ecco, allora vogliamo sapere, per esempio, che cosa è successo nella passata legislatura, così come vorremmo sapere, ci tiriamo fuori, è questo che ha dato sempre fastidio alla partitocrazia presente in Consiglio regionale, che noi non ci siamo mai sentiti come facenti parte, tra virgolette, della loro società politica, ma siamo stati in due anni e mezzo dei cittadini presenti in Consiglio regionale. E questo fatto di essere dei cittadini presenti in Consiglio regionale, con tutte le domande, i dubbi, le perplessità che verrebbero da qualunque cittadino che fosse catapultato lì dentro, appunto a loro hanno dato molto fastidio, a loro tutti centrodestra, centrosinistra, che ovviamente nell'ambito di una finta opposizione, di un consociativismo spinto, in cui l'alternanza tra le forze politiche ha garantito questo consociativismo, perché tanto il centrodestra sa che una volta vince e una volta perde, il centrosinistra sa che una volta vince e una volta perde e quando si vince il timone lo regge e il centrosinistra, ma il centrodestra ha comunque la sua quota di controllo di governo e viceversa quando vince il centrodestra e il centrosinistra ha comunque la sua quota di governo. Basti pensare che nell'aggiunta a trazione Polverini, tra i vari direttori generali delle ASL c'erano anche direttori generali di chiara collocazione politica nel PD, ovviamente di direttori generali radicali non ce n'erano, perché il consociativismo questo è, noi siamo i più grandi e facciamo quello che vogliamo. Allora l'alternanza ha prodotto questo, questa finta campagna elettorale, sta ancora una volta prendendo in giro gli elettori facendo credere che se vince il centrosinistra le cose cambiano, se vince il centrodestra le cose li cambiano, sono 30 anni, 40 anni che il centrosinistra e il centrodestra a furia di alternarsi tra di loro hanno prodotto esattamente questa situazione che vi stiamo mostrando, l'alternativa è una sola, è l'alternativa radicale. Un'altra domanda, si è parlato in questi giorni di rivelazioni di fiorito rispetto a un patto Polverini, Storace, addirittura di un pizzino, si tratterebbe di estralci di verbali, voi su questa vicenda avete qualche elemento, ne sapete qualcosa, vi giunge del tutto nuova o qualcosa? Noi su questa vicenda, come dire, no, ma diciamo che questa vicenda è esattamente quella che noi abbiamo denunciato sin dall'inizio, ci sono stati dei tentativi calugnosi di dire tutti uguali, siamo riusciti a far comprendere che tutti uguali tranne radicali, abbiamo chiarito sin da subito che i luoghi decisionali rispetto a queste vicende erano la commissione bilancio dalla quale eravamo stati attentamente esclusi e di questa esclusione noi a inizio legislatura l'abbiamo pure denunciata, diciamo che la stampa non è stata particolarmente attenta e all'epoca disse, ah la solita protesta dei radicali, la solita protesta, no, non era la solita protesta, ci fate stare in commissione bilancio perché abbiamo sentore che lì si consumino tutte le cose meno decenti della storia del Consiglio regionale, ovviamente non siamo stati messi in commissione bilancio, ovviamente non eravamo neanche nell'ufficio di presidenza, punto inarrivabile per i radicali e addirittura adesso Fiorito pare parlare di stanze che erano addirittura dietro la stanza della commissione bilancio dove si riuniva una super commissione bilancio, noi che possiamo dire? Siamo a conoscenza che distanze dietro alla commissione bilancio ce n'erano, non ci siamo mai entrati, non ci hanno mai fatto entrare, questo è assolutamente evidente. Anche perché saremmo usciti un secondo dopo e avremmo chiamato tutta la stampa per dire attenzione, attenzione. In realtà poi nelle commissioni bilancio abbiamo tentato pure di starci perché non è che sono luoghi inaccessibili, tutti i consiglieri possono partecipare alle opinioni, ma avveniva che venivano convocate alle 15 e poi il presidente della commissione bilancio Fiorito non si presentava fino alle 18, poi mandava qualcuno, diceva che sarebbe arrivato alle 20, ma poi alle 20 non c'era nessuno, insomma bisognava stare lì all'erta. Dopo essere stati quasi in un fronte in trincea ad aspettare l'arrivo del presidente della commissione bilancio Fiorito, si scopriva che in realtà in altre stanze il presidente Fiorito e gli altri membri della commissione si riunivano ovviamente fra di loro senza invitare magari i consiglieri che tentavano di partecipare alla commissione bilancio. Quindi non escludo che di quei foglietti possano essere stati anche di diversa fattura, non solo di quel tipo. Ne ho visti passare, ho tentato di guardarli ma non si capiva di che tipologia fossero. Poi i foglietti ce n'erano. Devo dire che una volta mi sono anche impressionato perché vedevo che questi foglietti passavano e si nascondevano. Credo che fosse la ripartizione rispetto ai comuni di finanziamenti per le infrastrutture scolastiche. Erano ripartite in base a… però non ci riusciva a spizzare il pizzino. Ma diciamo che questi pizzini appunto con quello che diceva Rocco non è che giravano come ha dichiarato Fiorito evidentemente solo con riferimento ai fondi dei gruppi, ma giravano su tutto quello che aveva da decidere la commissione bilancio. Il riferimento di Rocco appunto era dei bandi per le ristrutturazioni, per opere di manutenzione scolastica a favore dei comuni. I bandi pubblici sono bandi pubblici eppure lì evidentemente facendo fiducia a quello che ha visto Rocco giravano foglietti. E diciamo che quando c'era da spartire qualsiasi cosa entrava in azione è la seconda stanza della commissione bilancio. Posso fare una domanda non del giornalista? No, no. Dai scherzo, sì. Ci dite per favore che è successo quando siete entrati in consiglio regionale dopo che gli articoli di Stelle Rizzo? Che cosa vi è successo? È successo che per esempio la prima truppa giornalistica che voleva entrare in consiglio regionale per intervistarci non fu fatta entrare e quindi abbiamo dovuto fare l'intervista nei giardini del consiglio regionale. Perché secondo voi Zingaretti non la potrebbe candidare a nessuna? Perché Zingaretti immagina di fare trasparenza ma è difficile che la possa fare. Perché Zingaretti immagina di avere una regione dove venga premiato il merito ma è difficile che lo possa fare. Ma è difficile per un semplicissimo motivo. Personalmente non ho nulla contro Zingaretti. lo abbiamo già detto quando Zingaretti ha messo il veto su uno e due. Noi abbiamo immediatamente rimesso la nostra disponibilità a candidare. Ci abbiamo detto non ci candidiamo. Ma il problema non è quello. Poi il partito ha deciso in altro modo. Ma il problema non è quello. Il problema è che Zingaretti dietro ha un partito che si chiama PD. E come ci veniva spesso ricordato dai consiglieri regionali uscenti del PD. Noi siamo un grosso partito. Dobbiamo dare tante risposte. Per continuare a rimanere un grosso partito debbono dare risposte. Debbono dare risposte non sul piano dell'interesse pubblico generale. Ma debbono dare risposte sul piano del clientelismo, sul piano clientelare. Debbono dare risposte a questo, a quel soggetto che per esempio finanzia le campagne elettorali o che comunque dà delle grosse donazioni al partito o che comunque poi piazza le persone del partito. Lazio Service è un esempio di questo. Noi abbiamo i dipendenti di Lazio Service. Lo abbiamo già denunciato. Anche questo all'epoca non faceva molto interesse da parte della stampa ma nel corso della scorsa legislatura, all'inizio della scorsa legislatura ci siamo resi conto che per esempio durante la campagna elettorale precedente il PD, l'IDV, tutte le forze politiche di centro-sinistra avevano stabilizzato 400 persone dentro Lazio Service. Per fare cosa? Non si sa. Perché poi i lavoratori di Lazio Service molto spesso se si prendono sono persone frustrate perché non hanno nulla da fare dalla mattina alla sera. Ma sono stipendi, sono famiglie sistemate e sono voti. Il PD è un partito che agisce in questo modo. I signori del Consiglio regionale del PD uscenti, ad iniziare da Montino e per finire all'ultimo degli eletti, sono persone che giravano dai 14.000 alle 20.000 preferenze. L'ho detto anche in altre occasioni. Facendo la somma dei voti preferenziali delle liste del PD c'erano più voti di quanto noi come lista Bonino Pannella ne avevamo presi in assoluto come partito non clientelare. Ora Zingaretti con tutta la sua buona volontà evidentemente non è una persona libera. Io non so se lui voglia effettivamente modificare o no, rinnovare o no. Il passato di Zingaretti mi dice che non ha rinnovato perché per far carriera in un partito come il PD bisogna stare alle regole del PD. Bisogna stare a quelle regole del gioco. Zingaretti ci è diventato presidente della provincia e abbiamo detto per esempio come ha fatto trasparenza in provincia. E perché dovrebbe essere trasparente adesso in regione dopo che ha avuto la possibilità di esserlo e non l'ha fatto? Perché mai bisognerebbe dargli credito? Allora Zingaretti da questo punto di vista è stato vittima di un veto che è stato posto dai consiglieri regionali uscenti dal PD ai quali questi due individui che vedete seduti qui hanno rotto enormemente le scatole. Zingaretti non è stato libero di dire a noi va bene i radicali, anzi siete una bandiera vera per il rinnovamento perché l'avete già fatto e quindi io vi porto come bandiera di quello che andrò a fare e no, già mai. Lui questa bandiera l'ha dovuta nascondere e ha dovuto invece accontentare quel gruppo di consiglieri regionali uscenti promuovendoli in Parlamento, alla Camera, al Senato, mogli, figlie, loro in prima persona, dopodiché qualora dovesse vincere Zingaretti noi come auspichiamo saremo in consiglio, andremo a vedere anche tutti quei posti, quelle centinaia di posti di sottogoverno e vedremo se ci sono poi consiglieri regionali uscenti del PD in quei posti di sottogoverno. Esattamente come lo ha fatto la Polverini con i trombati del PDL o i non candidati del PDL, la Polverini ha piazzato tutti a partire dalla stessa giunta, dandogli dei vitalizi anche da esterni e poi piazzandoli tutte nelle varie società regionali. Che differenza c'è? Questa è l'alternanza, l'alternativa è un'altra cosa. Grazie a tutti.